La mia famiglia è più che non c'è bisogno. No, sono di più perché hanno più bisogno. A vero? Scema. Mamma, io ogni sera vado a balare. Ma con chi vai a balare? Dicevo, un ragazzo di Rimini che mi viene a prendere. Vai via con un ragazzo di Rimini che non lo conosci neanche? Ah, ma adesso quando vieni qui te lo faccio vedere, no? Quando mi viene a prendere qui. E allora stai a preparare ogni cosa. Noi senti una malaporta. E vieni giù con me, mamma. Allora non ho la chiesa. Sì, era Giorgio. Allora madonna, mi scleravano delle mie canzelle. Dicevo, scleravano delle mie canzelle. Era Giorgio. Dicevo che andava a lei e mi chiesa. Ma non so chi è stessa. Dicevo, la fumurosa. Dicevo, lì lei è più bella che ne te farà. Dicevo, sono amiche, ma Giorgio. Lì lei è più bella che ne te. Ma a me, la donna quando andava a fare il chiesa, se ne andava da una di Gratacella, mi aveva detto che la donna. Per la fine, la vostra fiola, che ragazzo che io vado lì, che andava di Pasquale. ma lì ero i figli, e lì ero i figli, ma lì ero i figli, però non si sposano loro due. Non si sposano perché, non so, non so, non si comprende, sono i nostri gradi. E lui si sposano, io la sposo, ma io ho un cliente che non nasce. Poi dicevo, non facciamo l'amenda facile, non c'è una bella posizione, lavoro, insomma, non facciamo, sposiamo qualche lì, le fanno fatte insieme. Chi sarà questo? Ma chi sarà? Chi sarà? Oh, c'è la verità. Ero a Damocco, mio figlio maggiore, andavo a lavorare lì 30, andavo a imparare da fare qualcosa per la Marisa. Dino? Dino, invece, non dino loro, i ragazzi li avevo, Era un burdello, io l'avevo in Giang, andavo su, sapete, sapete se era? Andavo su, a me la spedetta, a me li vicino alla mina. in quanto sentivo me la fe lo dico a su, lui forse aveva giusto una ragazzetta che era mia, andava a pulso, quando andò, me il treno, a dire, se la mia, davvero la mia marca, andavo su, so, qui in Giang, ma qui in Giang, in Giang, in Giang, in Giang, in Giang, in Giang, dopo che, quanto è che, l'amparella, nascendo la Carla, nascendo la locanda. Allora, andavo sempre vicino, andavo sempre, sempre, ritornale, nel primo, ha detto la Carla, io, sul primo, non lo credevo molto, perché, mi sembrava un bambino, Ale. Dopo, parlando, insomma, io gli ho chiesto, quanti anni che avevo, lui mi ha detto, ho fatto il militare, ho 21 anni, allora, va bene, ora va bene, cioè, prima, mi sembrava che, non mi volesse, che non, non lo volesse, invece, mi piaceva, la, via. E, lui, voleva venire in casa, io, mio babbo, gli ho detto, c'è un ragazzo, che vuole venire in casa. mi ha detto, il suo padre, il suo padre ha detto, no, che, non ho venuto nessuno, ti ha detto, il tuo studio, se, no, no, se mi prometti, che te, vai avanti con il tuo studio, che non smetti, allora, gli ha detto che, se no, non ho fatto nessuno, mi prometti, che mi ha studiato, e mi ha smetto di studiare. allora, l'ho andata in casa, Dino, andata in casa, andata in casa, andata in casa, andata in casa, quando era a 10, a 10 e mezzo, e doveva partire da 30 a casa, non stava lì fino a mezzanotte, e il suo, eri lì, non andava mica via, non fuori come deschi, la portava via, dopo lei andava via da parlosa, aveva mettere la macchina, e andava via, andava, andava qui pari, alla fine, però, nella facoltà un edione, non stava ragazza, non poteva, e come voleva, e uudendo, non è bello, nella fine, in casa, aveva, io andava per due anni, che se aveva posse, onde meni, qui è giustorzye, cosa fa Dino? Dio, ma mi dice, ho smesso di fare la torre? No perché? Ma dice, che mamma è cosa, Perché aveva un ragazzo, lei la serviva a sé, da sé la serviva e lei era un cliente. Sempre veniva la Carla e la sua madre ha detto, Carla devi sposare mio figlio. Ora Dino, se era bene, la stevede un po', lui parlava sempre, se lei era. Ora, se hai intenzione di fare così, sta con lui che io non vengo più. Dino, però non credeva che aveva tutt'ora di lì. Io non te l'ho attaccava, mi aveva visto. Cos'è che hai fatto? Dice mamma. Ma perché? Perché lei, io la scorsiamo su un ragazzo e lei, se vuoi fare l'amore senza me, la scorsiamo nella sua netta. E te la dice, oh. E allora Carla ha detto al suo amico, andrò a scuola, il mio ragazzo non viene più, abbiamo vestitiato, non viene più a casa. Ma come devo fare? Ha incasso fumato. Ha detto, come devo fare mamma? E la sua amica lì ha detto, lo sai cosa devi fare Carla? Scrivi una lettera. Perché dine la uravremmi, tolata, sottine le uravremmi, lei è vicina alla mutua, la mutua. Lo sai, scrivi una lettera. Poi portala alla macchina. Lì la paticella ha scritta la lettera. E poi lì ha fatto un po' un po' un po' un po' un po' un po' che determino è sincick. Altro non è una collega. E un po' un po' un po' un g screening. ma io non gli andassi giù il posto che te lo metto molto vero e madero non la mamma ma non la pianto io perchè? ce ne ha fatto ho stato citato col barco e per correre ma io non lo so ma io non ho la bicicletta perchè la vedi ma qui nel caso e poi la vedi e poi la vedi e per il mio nelzo e poi la vedi ora se non lo so se si sa che avevo una cosa di pazionti ma non mi lavora bene e la sottostante di pazionti come metodo... si sboccherà la cosa e la cima se lo sboccherò... si fa i chilometri che fanno qua è mazzurro ma il mauro non è ancora nuovo va a sfruttare perché gli uomini gli uomini e la giustina va pure scavando le euro noi ci andiamo via e ci sono andati tutti a scuola e io sta brutto mi disse, io le ho chiesa, le ho messo sporche il gioco, le ho chiesa, ah sì, le ho vado adesso, le ho decomberato alla buona macchina, non le ho male, le ho chiesa, perché lei le ho detto, va la vecchia macchina che è sporca, verla che è, c'è una risagna, no, non gli interessa niente, non chiesa, niente, che va mudando, non lascia le tulle, leva le mano, perché viste un po', l'ora non lascia solo le, e si dice, ma che stia colare, la volontaria città, oltre alla roma, c'è, ora la mi ze un po', la pina, la ciascosa di fare, se no una volta la vede la messa che aveva, non capita, E' un po' la pina l'andrezza adesso, sennò ero in mezzo, dovevo fare un stracione conciata. Il marito la sera scusata, la sua madre. Non sento mai cosa. E' un po' la mia fioca, che è un po' la mia fioca. Ma non avia vengo, una ragazza, la mia amastima a casa. E' un po' la mia amastima. Non avia vengo pulito, non avia vengo, non avia vengo, non avia vengo, non avia vengo. E' un po' la mia fioca, un po' la mia fioca. E' un po' la mia amastanza. E' un po' la mia fioca. E' un po' la mia fioca. E' un po' la mia fioca, e te rubo che una madonna si è tolta. e va a sgondamena, quant'è quella a volte va a sgondamena? quant'è quella è? 70 è quella, dentro 90 90 la tua macchina non è proprio più bella la roba qui, mi hanno la stella, no? si, si sono solo a pira, perché c'è un po' una cosa di assieme a te a lei non era una sbaglia se non non è proprio candele quando assieme a me è matto a stella che ho scappato lo spingato, che ho fatto un po' così io ho la cosa di un po' in una pese va via bella, dopo lì smelle la chiesa popolera quando siamo stai lì la macchina non andava più la macchina non andava più la macchina non andava più e allora guardano c'è la benzina dentro ma penso di sì la macchina penso di sì, la macchina non andava la benzina non è niente la spiega, non è niente più la benzina dopo l'ora gli ha tronco non mi ha messo stessendo la macchina in me ma non dirgli via bella e lui tira via tira via tira via questo è fermato la macchina e allora gli sono parati e gli ha detto la benzina è semplice, eh? c'è sempre una stella ma la stella senza benzina come fa male e troppo senza benzina ma che bella e la stella io ho mia destra ma che non è e questo è un metro 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.